Contro le chiusure notturne imposte da Grim si sono posti sindaci di Vinchiaturo, di Ripalimosani, oltre agli esposti fatti dal Comune di Campobasso. Ma le chiusure continuano. Fino alla mattina di venerdì la società Grim, che gestisce il servizio idrico, chiuderà i serbatoi di Cese Basso, Cese Alto, Monforte e Calvario dalle 23 alle 5. Quindi la situazione resta complicata. Da aggiungere alla protesta corale, quella specifica proveniente da Confcommercio Molise, unitamente a FIPE Molise, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Federalberghi Molise. Esprimono forte preoccupazione per le modalità con le quali continua ad essere erogato il flusso idrico nella città, ponendo seri problemi agli esercenti e a quanti hanno investito nel settore turistico. La Confcommercio Molise, per bocca della sua direttrice Irene Tartaglia, chiede un confronto con tutte le associazioni di categorie interessate, per comprendere quali misure adottare nell'immediato che possano garantire servizi idonei. Per far fronte alle problematiche illustrate, conclude Tartaglia, si fa appello alla creazione di un'ampia cabina regionale, capace di elaborare strategie e programmare interventi e misure, anche economiche, di fronte ad un fatto inconsueto, ma annunciato da tempo, come quello della carenza dell'acqua causata dalla crisi climatica, quindi richiesta di programmazione nella gestione della crisi idrica.